Ecco siamo qui proprio di fronte al faro di Moro Cable e adesso faremo una camminata lungo la zona pedonale Così siamo proprio di fronte a lo del faro Così è stato un po' di fronte a lo del faro ecco qui siamo di fronte alla fermata del bus ancora inizia un'area coperta qui comincia la strada che va lungo il lungomare ecco qui termina la zona del lungomare ecco qui termina la strada che va lungo il lungomare